E guardate che meraviglia, una bella pinza, pentricina, cipolla a fianco, propola, pomodoro, onduia, mamma mia, mamma mia, mi trovo allo street a tradate, con Christian, bellezza, ma mangiamo subito, andiamo, andiamo subito, andiamo al tavolo così, voilà, ma c'è anche mortadella, grananno di pistacchio e salsiccia e friarielli. Nuovo drink, nuova serata, siamo con il grande Christian. Fritta ripassata al forno, quindi siccome ripassa dal forno è light, secondo me, e adesso la prova, light. Questa, brava, leggera, ma c'è il crocchetto di patate, perché io mentre stendiamo, penso che sia un pezzo di pasta, così non si fa più, perché mi sembra che è emozionare. Questo è tutto live, ecco qua, guarda, ha scoperto che c'è il crocchetto di patate. Perché sotto non si vede, quindi poi dopo c'è neanche la sorpresa. Senza trucco, senza, anzi, con l'inganno. Con l'inganno, viene accerto, ma io parto con questo. Morbido, mamma che impasto. Ottimo. E assaggio anche la salsiccia e friarielli, la nostalgica, la potremmo chiamare, giusto? Nostalgica. Ma già questo aperitivo è quasi pieno. Adesso Christian mi dà la pinza, mortadella, pistacchio, e poi dopo abbiamo scoperto che dentro ci sono i crocchetti. Io voglio assaggiare questo. Una pediere. Questa meraviglia. Come vi ho detto all'inizio del video, fritta e poi è passata al forno, quindi direi light, è assolutamente il problema. Croccante. Quindi com'è che tu l'hai provata? Buonissima. E ora la provo. Quali di testa? Qui c'è la cipolla. Dopo quando arriva la stagione giusta della cipolla? Tropea. Buonassimo, bravo. Ho giudicato anche questa. Buonassimo. Buonassimo.